Nella votazione per la presidenza del Senato è mancata la trasparenza, dice il leader del movimento, il voto segreto non ha senso, l'eletto deve rispondere delle sue azioni ai cittadini con un voto palese, ribadisce poi Grillo, se questo è vero in generale per il Movimento 5 Stelle che fa della trasparenza uno dei suoi punti cardini vale ancora di più e se qualcuno si fosse sottratto a questo obbligo ha mentito agli elettori, spero ne tragga le dovute conseguenze. Conclude così Beppe Grillo